E' stata una partita sicuramente impegnativa, soprattutto a livello organico, fisico, perché comunque una settimana che sto lavorando, mi sento tutto il lavoro nelle gambe, il primo tempo faceva tanto caldo, una squadra forse partita un po' timorosa, volevamo capire quello che era l'ambiente. Per fortuna abbiamo già dato un'imbronda di quello che vogliamo dimostrare in questo campionato, cioè non scoraggiarci mai, lottare fino in fondo e dare tutto quello che si ha. Poi a volte riesci a fare risultati, a volte no, però l'importante è che l'impegno sia sempre al massimo. Diciamo, abbiamo detto col Minister che non ti abbiamo visto proprio al 100% e che è abbastanza normale, voglio dire, in questo momento. Tu sai che ci sono grandi aspettative nei tuoi confronti? No, ma vedermi al 100% in questo momento non sarebbe neanche una cosa ideale, ecco, e non me lo auguro. Sì, no, so che sicuramente dovrò dare un contributo importante ai ragazzi, alla scuola, alla società, ho accettato per quello, perché la sfida è molto impegnativa, è molto importante. Io fisicamente mi sento bene, quindi sono ancora in condizioni, mi sento di poter dare, ecco, da parte mia c'è tutta la buona volontà di provarci, poi a giugno vedremo. Serviva un'iniezione di fiducia, questa squadra ha avuto l'anno scorso tanti problemi, tante vicissitudini, anche quest'anno, un mercato lunghissimo. Ecco, l'iniezione di fiducia mi pare che ci sia stata, insomma. Sicuramente si respirava, ecco, dopo una retrocessione, una piazza come Vicenza, ovvio che ci sia quel rammarico, delusione, ecco. Noi, dal primo giorno che sono arrivato, l'idea è stata quella di azzerare tutto, di non sapere neanche quello che si è successo l'anno scorso, che si è ripartita con una squadra al momento molto giovane, quei 4-5 ragazzi con più esperienze, stiamo cercando di dare l'esempio, di allenarci sempre al massimo, perché sappiamo che Vicenza in Cia è una piazza molto importante, dove le squadre verranno per dare il 100% e fare bella figura in uno stadio così. Quindi da parte nostra sappiamo che è controproducente essere il Vicenza in questo momento, perché devi dare sempre più dell'avversario. Oggi la cosa che mi è piaciuta tanto è stata appunto quello. Il lavoro fatto in una settimana è l'approccio, la voglia di vincere, di ribaltare il risultato, di continuare comunque a fare gol, è stata quella che è la base sulla quale stiamo lavorando da quando sono qui. Mi pare che il rapporto col pubblico dia segnali positivi, oggi la gente è venuta, c'era tanta gente considerando che era una partita in piena estate, vi ha sostenuto, li avete ripagati con una bella vittoria, anche questo penso sia un punto importante che vi ponete come obiettivo. Io ricordo la curva da avversario, è sempre stata una di quelle curve molto importanti, è sempre piena, al di là della classifica. Sinceramente sono rimasto colpito perché non pensavo, ho notato un attaccamento alla maglia, alla città, dei tifosi che ci tengono molto alla loro squadra della città e questa cosa l'ho notata da subito. Sicuramente se riusciremo a coinvolgere e dare entusiasmo a tutti, ripeto, ma non dal bel gioco e non sempre riuscirai a vincere 4-1. Però portarli dalla nostra parte significa vedere dei giocatori che danno il 100%, credo che loro faranno la differenza. Tu sei un giocatore importante che ha giocato in piazze come Crotone, è stato un protagonista della promozione in serie A storica per loro, potevi stare in B, cosa ti ha convinto a venire a Vicenza in C? Mi ha convinto, come dicevate prima, è una sfida molto importante, molto difficile e credo che un giocatore spesso si dice che a 34 anni devi smettere se sei vecchio, invece non è vero perché quello che fa la differenza è l'approccio mentale, è lo stimolo e se vai in piazze come è capitato a me per accettare una sfida molto importante, ovvio mi sento chiamato in causa, mi sento anch'io in discussione come tutti e la voglia sicuramente è quella che fa la differenza. Tre giorni, quattro giorni, subito titolare, a parte che avevi lavorato con la Juventus, però insomma la fascia, per chi non ti conosce ha capito subito che la fascia tu la fai sempre in ogni partita, ventina, trentina di volte. Sì, come ha detto lei, arrivavo da una tournée con la Juventus prima squadra e quindi diciamo che fisicamente c'ero. Sono arrivato qui, i compagni mi hanno accolto subito benissimo, siamo un gruppo giovane e il mister mi ha dato fiducia subito e spero di averla ripagata oggi in campo. Tu sei proprio il casco giocatore con le caratteristiche che aveva chiesto Colombo, quel terzino che attacca, insomma tu hai proprio questa dote di andare, magari poi devi migliorare un po' in fase difensiva, ma insomma quando c'è da salire non ti tiri indietro. No, infatti mi piace molto attaccare e devo migliorare sicuramente in fase difensiva, tatticamente, però sono più diciamo un terzino che va. Alla gente è piaciuto il vostro spirito, la vostra voglia, tanti giorni, una squadra costruita un po', siamo un puzzle, chi è qui da un giorno, chi da tre, chi da una settimana, insomma vi siete messi insieme, vi siete uniti e avete stato a una buona prestazione anche perché andate sotto e le potevate anche mollare. No, infatti siamo arrivati diciamo tutti alla fine quindi non ci conosciamo neanche benissimo, non era facile. Quello che ci ha chiesto il mister era l'atteggiamento e diciamo che l'abbiamo dimostrato, siamo stati anche nell'1-0 sempre uniti, sempre testa alta, infatti poi l'abbiamo ribaltata grazie a due perle di Giacomelli e poi nel secondo tempo loro diciamo che erano un po' più stanchi e è finita 4-1. Nel tuo ruolo c'è Giraudo, un derby Torino-Juventus, insomma ve lo giocherete voi? Probabilmente poi c'era il mister del posto. No, ma Giraudo lo conosco abbastanza bene, siamo stati insieme anche in nazionale, poi sì il derby Juve-Toro ma ci vogliamo bene, non cediamo, questo è l'importante alla fine perché il gruppo deve rimanere unito e non ci devono essere, diciamo, questi, delle, esatto, dualismo. Un'ultima cosa, è stata sicuramente una partita difficile, soprattutto all'inizio quando a centrocampo si sono fatti infilare un paio di volte e voi in difesa, anche perché non vi conoscete siete andati un po' in difficoltà, poi siete compattati di più e avete rischiato poco o nulla. Sì, all'inizio non è stata facile, ora non voglio trovare degli alibi, solo che faceva molto caldo, eravamo molto stanchi all'inizio, poi invece dopo ci siamo sbloccati e è andata bene.